ciao e benvenuti in un nuovo video ed è dove faccio vedere i spacchettamenti dei prodotti del momento che mi hanno inviato allora intanto l'ho aperto ma ve lo faccio vedere un attimo perché l'ho aperto perché non mi ricordavo una cosa e volevo vedere se me l'avevano inserita perché gliel'avevo chiesto particolarmente io non si capisce cosa dico ma perché ve lo spiego subito allora douglas e pacco che mi hanno inviato vi dico subito vi mostro i prodotti nuovi perché c'è la nuova linea di catrice e ve la faccio vedere poi vi mostro due prodotti che sicuramente da qua capirete il perché di tutto ciò allora lì la catrice e c'è la nuova cipria o il matt shine contro il padre che ancora chiusa e magari potevo aprirla visto che l'avevo aperto per vedere se c'erano i prodotti all'interno cipria in polvere compatta opacizzante e poi dopo abbiamo anche aspettate la matita 24 ore ultra precision waterproof eccola qui sempre molto comoda ma i prodotti che ci interessano sono il true skin 18 ore idracing eye cover concealer acido di anorico waterproof colore warm beige 0 20 che ha questo applicatore 0 20 forse un po chiarino per me e poi c'è ultimate camouflage cream nel colore 0 20 sempre quindi hanno proprio pensato che ci sia la 0 20 questo è il primo è molto cremoso quindi perfetto per i contornocchi il secondo invece è tipo nascondino di un tempo fa di neve è più vedete è più solido quindi è perfetto per le imperfezioni o per i piccoli dettagli del viso ma quello che ci interessa più di tutti eccoci qua il perché di tutto questo è perché insieme c'era questo il super boost lush and brown 0 è un cero allungante rinforzante booster per ciglia e sopracciglia questo qui fatto con il pennellino e fino qui tutto ok però mi hanno inviato della stessa ed è tipologia ma marca diversa perché questo è della essence il brown mask rigenerante con aloe vera rigenerante rinforzante fatto sempre con il pennellino eccolo qua anche se un po più largo è sempre per sopracciglia questo solo sopracciglia non anche ciglia al che spiegazione di tutto questo ho chiesto alle ragazze di douglas di mandarmi se potevano un prodotto perché è quello che io utilizzo di più e mi trovo benissimo ed è così ve lo mostravo perché se qui abbiamo due serie ciglia e sopracciglia vi devo parlare di quello che io preferisco e me l'hanno inviato per quello aperto il pacco perché se no l'avrei acquistato a parte ed è io normalmente li trovo anche da un aspettato come si chiama caddis ma pala e le double lush allora questo è un 10 ml ed è il prodotto a mio avviso migliore per ciglia e sopracciglia ha un formato lattiginoso quindi è consigliato da utilizzare alla sera questo è l'applicatore questo fa la differenza intanto perché vedete che se l'applicate un po fuori dalla vostra sopracciglia iniziate a vedere i peletti ricrescere quindi non sbagliate perché andate a spinzettare se no sempre la parte sotto perché vi crescono i peletti ma anche sulle ciglia questo ho notato che fa una super differenza infatti cioè più lunghe più incurvate più rinforzate e quindi quando mi hanno mandato la collezione ho detto no potete mandarmi anche quello visto che ho visto che ce l'avete in stock perché così ne parla le ragazze costicchia ma con l'uso costante assolutamente questo è il migliore per il momento se poi ne troverò altri validi ve lo farò sapere poi altro brand e questo io non sapevo che vendesse online ma quando mi hanno contattato ho detto no dai royal beauty è un marchio che io vedo sempre da chi no da la saponeria royal beauty e hanno a quanto pare anche lo store online mi hanno contattato perché mi hanno detto hanno visto durante il canale dell'avvento di The Sephora che ero così contenta delle maschere in stick e ho detto ma sai che ce le diamo le novità a noi anche perché royal beauty è molto low cost ed è economico hanno davvero le maschere in stick questa è purificante al carbone è un 40 ml fatta così le proverò ma per il momento dico wow e poi dopo c'è anche questa che è riequilibrante al tè verde e allora sicuramente le voglio provare anche perché 5 minuti come le altre no ma c'è spettacolo anche perché da Sephora ultimamente non si trovano se royal beauty davvero si è messa a farle e hanno più o meno la stessa funzionalità ve lo dico sicuramente poi sono state davvero molto gentili perché mi hanno inviato anche queste tre tipologie di maschere queste qui che io non ho mai visto sinceramente in negozio ma ci devo guardare meglio ma ora che sappiamo che hanno anche il sito online perché no solo per uso esterno ovviamente abbiamo la maschera all'argilla equilibrante detox purificante e la maschera con argilla purificante che restringe i pori e opacizza ognuna è da 35 ml sono quelle che vanno ed è aperte e poi si richiudono dice che fa 4 applicazioni una o due volte a settimana a lasciare agire per 15-20 minuti ho apprezzato tanto io non so se si sono guardati tutti i video o semplicemente se l'agenzia gli ha forniti i dati ma che abbiano scelto solamente i tipi di maschere che più si adattano al mio tipo di viso c'è quella detox che la utilizzo solo in certi momenti dell'anno ma per il resto fantastico è molto molto apprezzato come molto apprezzato sono anche questi patch con amamelis virginiana dei patch per il naso in tessuto per i punti neri penso che ce ne sia solo uno dentro e io niente quelli neri li apprezzo sempre di più e mi piacciono e proverò anche questi allora io a questo punto sono curiosa di sapere da voi se qualche prodotto vi incuriosisce se il royal beauty lo conoscevate come marchio se utilizzavate i loro prodotti dove lo trovate voi io credo di trovarlo e se non ricordo male sicuramente la saponeria lo vedo ma credo che anche al Caddis ci sia qualcosa e poi dopo ditemi se vi incuriosisce il lessiero per ciglia e sopracciglia se volete partire a provare quell'esempio di Essence o Catrice però io ho visto il prezzo vi consiglio questo della Mabala ce ne sono tanti altri anche più costosi che funzionano sì ma perché andare a pagare di più quando c'è qualcosa che comunque funziona credo che ci sia anche su Amazon nel caso però lo trovate questo per provare è fantastico anche se sulle ciglia non dà fastidio agli occhi non irrita quindi provatelo assolutamente lo mettete la sera perché ha una texture un po' lattiginosa lasciate giro tutta la notte e la mattina quando fate la skin care lo rimuovete anche quello viene via anche solo con l'acqua e niente io ho fatto abbastanza fatemi sapere se avete fatto con questi prodotti come si trovate se come sempre qualcosa vi incuriosisce se lo proverete ed vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino? mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao ciao